allora buonasera a tutti quanti allora vi dico una cosa le fonti sotto al video siccome sono tantissime e c'è un limite di 5.000 caratteri le ho divise in due una parte sono nel commento sotto al video stesso perché veramente non ci entra sono tipo 9.000 caratteri quindi aggiungere un commento e metterò anche il resto del delle fonti ovviamente vi aggiorno subito sulla questione dei missili in polonia così ce la togliamo perché il topic insomma della live è un altro allora intanto è un missile ucraino questo è accertato dalle analisi dei rimasulli del missile è palese che sia un s-300 ucraino quindi le varie teorie che c'erano a riguardo su se era russo se era ucraino se era un autoattacco polacco come causos belli insomma sono tutte sfumate c'era anche la possibilità che i missili erano due perché all'inizio si parlava di due missili uno ucraino e uno russo che probabilmente andava a intercettare quello scusate quello ucraino che andava a intercettare quello russo in realtà dai rimasulli e dalle analisi dei pezzi è venuto fuori che si tratta in evoca equivocabilmente di un missile s-300 ucraino quindi un danno collaterale non voluto i polacchi non avevano risposto in maniera estremamente agitata si sono limitati a neanche invocare l'articolo 4 in realtà hanno fatto un consulto durante la notte in un meeting d'emergenza ministero della difesa polacco forse avanzeranno la proposta insomma di considerare alla nato il l'articolo 4 che semplicemente a scopo consultivo cosa può fare un paese se si sente minacciato in caso di di attacchi di di quel tipo quindi nulla di che alla fine non non ci sarà il l'articolo 5 non ci sarà insomma nulla di che i pezzi questo è uno dei pezzi ed è stato analizzato è venuto fuori che era un s-300 ucraino certo la colpa rimane dei dei russi cioè nel senso che gli ucraini sono in tutta legittimità di difendere il proprio spazio aereo da missili lanciati dai russi sono i russi che non dovrebbero lanciare missili così vicini al confine con paesi nato con rischio che qualcuno fuoriesca o che ehm gli ucraini difendendosi finiscono poi per intercettare insomma quel missile magari quel missile va fuori rotta quindi la colpa eh di base russa nel senso gli ucraini sparano i missili per difendersi poi non è che hanno colpa se il missile facci lecca o o finisce quindi ma sicuramente non succederà nulla è deprecabile che siano morti ovviamente eh due polacchi ma non non succederà niente insomma non è che si fa una guerra mondiale per due morti eh con con tutto rispetto per la vita umana non vai a rischiare milioni di morti per due soprattutto su un errore quindi non succederà assolutamente niente ovviamente i media come al solito ci hanno ricamato sopra devono fare il loro sensazionalismo eccetera io preferisco come ho detto ieri come ieri ho ricaricato una vecchia live che è stata rimossa da youtube due mesi dopo per disinformazione a me ci ho litigato per due settimane mandandoli tutti le fonti eccetera mi rispondono come delle macchinette eh queste sono le nostre regole di condotta sì le conosco le ho lette quindi qual è il motivo per cui mi avete tolto il video e mi rispondono il nostro team di esperti ha valutato ok mi dite il criterio con cui il team di esperti ha valutato e via nastro stessa cosa se avete un team di esperti avranno anche un criterio di valutazione mi direte cosa c'è all'interno del video eh che non va bene nulla alla fine addirittura il tizio che mi stava seguendo sul caso mi ha detto guarda ricaricala perché probabilmente è un errore dell'algoritmo e non ci si può fare nulla motivo per cui ehm l'ho ricaricata per completenza insomma rispetto a tutte le le live sì praticamente è come combattere con un muro eh gli chiedi il motivo loro continuano a dirti le loro regole sì ma il motivo ha il nostro team di esperti ha valutato e quindi nulla vai avanti così e ti rendi conto che è un muro alla fine credo che se no sono fatti apposta per rispondere in questa maniera ecco non sai nemmeno se hai una persona davanti perché uno a un certo punto dice ma cos'è comma 22 e prendendo in giro si va in loop sempre sulla stessa questione quindi alla fine è semplicemente un s 300 i link sono in in descrizione tra l'altro aspettate che ho sbagliato ecco condividi scheda chrome questa è l'analisi mark kensian del think tank del xys ehm analizzato che è un s 300 quindi ma un po' tutti gli esperti un po' tutte le analisi che trovate online insomma ehm condividono questa analisi quindi anche il dottor justin bronc del think tank del rusi conviene che è un s 300 quindi insomma ormai è tutto abbastanza ufficializzato anche gli americani con loro team di analisi hanno detto che è un s 300 i polacchi hanno accettato che è un s 300 insomma è un s 300 per tutti quanti è un errore ucraino involontario quindi non succederà assolutamente niente ehm Stoltenberg come sapete ha fatto una sua dichiarazione ovviamente ehm abbastanza inutile rispetto alla situazione la cosa che mi ha fatto più che ho notato di più è che comunque la la reazione della nato è stata un po' un po' sotto gamba un po' spenta insomma mi aspettavo di più rispetto all'evento ecco l'investigation into this incident is ongoing and we need to await its outcome but we have no indication that this was the result of a deliberate attack and we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO praticamente dice che le investigazioni sono in corso e che non ci sono dati per dire che i russi stanno preparando un attacco contro la NATO e tutto qui il resto insomma va avanti un quarto d'ora più o meno su questa linea quindi non non c'è molte non ci sono molte rimostranze no mi aspettavo quantomeno insomma dei toni un po' più un po' più forti ecco quindi ehm tutto qui insomma le fonti sono in descrizione quindi se volete vedere anche la risposta di Biden è stata abbastanza sotto tono lo stesso Biden ha detto assai poco eh a riguardo di questa situazione quindi è tutto rientrato insomma abbastanza nella non dico normalità però nel senso è stato rientrato rispetto alla possibilità di una guerra con la NATO è stato rientrato insomma è stato rientrato con la NATO c'è un'informazione che mi piace ed è stato rientrato quello che mi piace esatto penso che sia stato rientrato ma è ma è ma è non in in i i il le rispetto alla situazione attuale ma non è plausibile che sia lanciato dalla russia per via della traiettoria la territoria era particolarmente palese che veniva insomma dall'ucraina l'hanno visto le tracce si lasciamo perdere il fatto che sembrava un po così ecco veniamo ai nostri ai nostri amici e il motivo di questa live perché credo tutti i canali compreso il mio insomma hanno sempre parlato della bagner di tutti questi gruppi ma non si è poi mai fatto un un approfondimento proprio sul sull'unità di per sé e su tutte le varie unità che girano da una parte e dall'altra è un compendio vero e proprio insomma di queste di queste attività e quindi secondo me andava fatto una volta per tutte perché ci sono un po di informazioni ma sono sparse in in vari video e invece così ci leviamo questa cosa una volta per tutte allora questo è il simpatico logo della bagner cos'è la bagner la bagner è una compagnia privata di mercenari mercenari inizialmente non si sapeva esattamente chi fosse a capo perché il capo era abbastanza nascosto si sapeva più o meno che era prigojin ma fino al 2015 era difficile attribuirle la paternità della della cosa in realtà piano piano con le loro attività soprattutto quelle in in siria è venuto sempre sempre più fuori e nell'ultimo anno insomma non ha più negato la cosa insomma è evidente anche perché è andato poi a fare reclutamento anche alle nelle prigioni se vi ricordate il il video perché particolare la bagner perché non è proprio come la black water usa poi diventata academy ed altro è in realtà un qualcosa di collegato al governo cioè esiste perché comunque va a fare il lavoro sporco per il governo russo era sia coinvolta nel 2014 nel donbass e nella nella situazione della crimea e poi era coinvolta ovviamente in in siria e poi sappiamo che coinvolta in moltissimi paesi africani tra l'altro anche contro i francesi in siria tra l'altro c'è una battaglia che pochi racconta invece io ho avuto occasione di conoscere bene eh grazie a cristadoro che ha scritto un libro sulla siria che fa l'altro mi ha mandato e che sarà nostro ospite eh tra un po' ehm dove lui praticamente racconta di questa battaglia che poco conosciuta e credo che sia una delle più grosse sconfitte ehm della Wagner in territorio ehm siriano dove praticamente circa quattrocento della Wagner insieme a a un po' di miliziani pro eh Bashar al-Assad hanno praticamente fatto un'offensiva contro un gruppetto di americani circa quaranta cinquanta americani e sono stati bombardati come se non ci fosse un domani e sono stati praticamente eh distrutti subendo circa trecento perdite ecco questa battaglia è poco poco raccontata e in realtà ehm è stata abbastanza traumatica per per loro quindi è interessante vedere come i nostri amici della Wagner sono coinvolti un po' ovunque ci sono ehm denunce da parte ovviamente di Amnesty International ci sono alcuni elementi che sono ricercati proprio dall'FBI eh insomma c'è un sacco di gente simpatica all'interno della della Wagner e quello che viene fuori è che praticamente questo signore qui una volta era il cuoco di eh Putin si è rivenduto diciamo come capo di questo di questo gruppo mercenario soltanto negli ultimi anni un po' come Himmler era un se non ricordo un allevatore di polli e poi si è insomma reinventato come gestore insomma per per Hitler eh la cosa interessante è che eh la Wagner è quella che ha partecipato a le offensive che hanno avuto più successo in nella guerra in Ucraina quindi parliamo del piccolo sfondamento di Popagina che poi avrà andrà a causare praticamente la ritirata ucraina a Lizichansk e quindi Severodonetsk eh loro cercano sempre di andare a fare offensivi insomma in fronti abbastanza mirati non si buttano mai nel nel carnaio ecco sono abbastanza furbi perché devono fare propaganda altra cosa interessante di della Wagner è che Prigojin insieme poi a Kadirov sono quelli più critici rispetto all'esercito sono quelli che hanno mosso le critiche sono un po' i falchi quelli che addirittura auspicano all'utilizzo di eh nucleari infatti c'è questo discorso ora in Russia dove ehm i generali vengono si prendono tutte le colpe e vengono praticamente dimessi mentre eh elementi come Prigojin e come Kadirov vengono eh premiati e possono permettersi quasi di dire tutto ecco ehm la Wagner ha anche avuto l'idea di quella famosa linea difensiva che eh stanno mettendo su insomma su tutta la linea eh del Donbass eh quindi si rendono conto della situazione questa era una mappa uscita su un su un telegram russo dove si fa vedere praticamente l'idea di creare questa linea perché questa linea è interessante perché non solo copre per dare un'idea questo è Bakhmut eh non solo copre il fronte davanti a Popa cioè dietro a Popa cioè dietro a ehm l'Isichansk qui sarebbe questo è l'Isichansk questo è Severodonetsk ma copre anche il fianco destro quindi evidentemente hanno paura che se gli ucraini sfondano qui cioè a Cremina aggirano il fronte e li prendono alle spalle quindi questa linea praticamente è fatta a L cioè copre anche il fianco destro quindi già una linea preventiva che fa presagire che sanno già che molto probabilmente il fronte a nord non reggerà ehm in eterno quindi è una linea molto conservativa eh altre cose su di loro eh sono accadute un po' ovunque qui in giro nel mondo si sono andati da fare un po' ovunque eh sì ora parliamo anche dei vari personaggi insomma che ci sono al all'interno perché oltre a Prigojin c'è un simpaticone eh di nome Utkin ehm Utkin è praticamente ora è un colonnello questo è sempre Prigojin cuoco tra l'altro in versione cuoco con Putin mentre l'altro simpaticone ora vediamo se lo trovo perché c'ho di tutto eccolo qui l'altro simpaticone è questo uomo qui a destra questo in fondo questo che sembra collina il vecchio arbitro ehm provato premiato con varie medaglie come si può vedere dallo stesso Putin ma questa è una delle poche immagini ufficiali dove eh Dmitry Utkin ehm risulta insomma affiliato a Putin tendenzialmente è sempre stato nella eh penombra e questa invece è un'immagine più recente dove si vede palesemente in eh equipaggiamento militare che scende giù da un da un elicottero perché interessante eh questo Utkin perché ovviamente ha delle idee abbastanza strane ecco non è proprio un tipo ehm simpatico ehm ha la brutta tendenza ad avere dei tatuaggi qui sul collo a forma di eh runa eh della SS eh l'immagine non la mostro perché poi YouTube rompe le scatole anche su queste cose però la la prima cosa che potete trovare scrivendo Utkin su ehm su Google Image è praticamente questa immagine immagine qui dove c'è lui insomma con i tatuaggi e con una bella aquila del terzo Reich sulla sulla destra del petto eh quindi è un personaggio abbastanza strano ecco ehm questo perché perché ehm trovo un po' paradossale poi arriveremo anche all'Azofe io non è che mi risparmio su sulle narrative o faccio propaganda per una parte o per l'altra ehm è una guerra di nazisti praticamente ci sono quelli dalla Wagner ci sono quelli dall'Azofe cioè ognuno ha i suoi eh non so chi sia meglio e fra l'altro facendo un po' di ricerche sono venute fuori anche delle cose che ho poco raccontate eh ma poi ci arriveremo per mh per gradi eh perché la Wagner è importante perché alla Wagner un po' come per l'SS viene dato l'equipaggiamento eh migliore vengono trattati eh meglio e quindi ehm hanno insomma una certa capacità bellica perché sono uomini comunque di esperienza chi si è fatto tre quattro anni di Siria che si sta facendo un po' di guerricciole in in Africa sono piuttosto eh piuttosto bravi fra l'altro ultimamente è uscito un uno scandalo che è abbastanza intanto vabbè Utkin vabbè facciamolo vedere speriamo che YouTube non rompa le scatole come si può vedere questo è Utkin non è proprio un simpaticone ehm come si può vedere le sue ispirazioni sono abbastanza ovvie ecco non è che c'è molto da da commentare su a cosa si ispira non è un caso che il gruppo si chiama Wagner di ispirazione chiara ecco quindi quello che viene fuori da da queste storie io di LinkedIn ho messi veramente tanti perché poi la storia della Wagner in realtà è molto intrecciata con tantissime altre cose ehm risulta che la Wagner è dietro anche a alcuni assassini compiuti in Ucraina tra il 2014 e il 2022 erano stati anche eh ho fatto questo ehm articolo del theintercept.com ve lo consiglio assolutamente è venuto fuori che loro erano stati anche incaricati di uccidere Zelensky e la moglie tra l'altro non mi ricordo se ha figli mi pare di no forse sì ehm e hanno fallito miseramente cioè un paio di loro sono stati anche mh catturati in più Anonymous per chi non sapesse cosa è Anonymous sono praticamente mh un gruppo di hacker erano riusciti ad ad hackerare un sacco di documenti russi da cui è venuto fuori su 60 gigabyte gigabyte di email dove c'erano tutti dei rapporti anche ehm della Wagner quindi piano piano si è risaliti insomma al ai veri fondatori insomma che sono insomma questi tipini poco raccomandabili eh perché la Wagner è fondamentale in questa storia perché in tutta la guerra in Ucraina sta emergendo ehm una certa attitudine generale a questi gruppi non solo militari paramilitari anche prima della guerra con i vari gruppi di di pravi sector dell'ASO ma anche di separatisti eh delle repubbliche di Donetsk e Lugansk perché anche lì c'è un gruppo c'è il gruppo Cossacks c'è il gruppo dei Tatari di Crimea insomma ci sono i Kadirovski che combattono per Kadirov per i russi ma ci sono anche i ceceni che combattono per gli ucraini quindi c'è un mischione ci sono i battaglioni bielorussi ci sono i battaglioni di volontari brasiliani e argentini insomma sta venendo fuori un gran numero di truppe che non sono prettamente legate all'esercito russo o all'esercito eh ucraino che combattono e che hanno anche un certo grado di risultati anche se mi risulta che eh il terzo battaglione bielorusso il reggimento Pahonia eh ha partecipato a alcune fasi della guerra ma poi si è ritirato ha disbandato forse per per numero di perdite subite quindi sono anche dei battaglioni che si battono duramente ad esempio quello che combatteva in a Severo che è composto da argentini brasiliani eccetera eh subirà grandi perdite all'interno della della città quindi tutto questo movimento di truppe è anche supportato da ehm immagino che molti di voi saranno familiari con il crowdfunding sarebbe quella metodologia di solito si usa per i software per i videogiochi dove praticamente la gente dona per eh per avere poi un software o un qualcosa ci sono progetti Kickstarter Indiegogo eccetera e eh pare che alcune di queste di questi gruppi sono sono hanno anche fatto crowdfunding alcuni sono stati finanziati da oligarchi alcuni sono stati finanziati dalla gente alcuni continuano a essere finanziati in maniera insomma ehm abbastanza strana anche online ecco e quindi tutto questo tutto questo movimento tutto questo ambiente in questa guerra forse è poco raccontato ma in realtà un grosso risalto perché eh la Wagner che all'inizio aveva poche migliaia di uomini ora invece si parla eh di circa ventimila ventimila divisi in tre reggimenti ma poi ci sono anche tutti quelli che stanno reclutando cioè alla Wagner è stato dato praticamente il permesso di andare nelle prigioni e ehm recuperare praticamente un po' di prigionieri che in cambio di un di un tot di ehm mesi di servizio all'interno della Wagner teoricamente poi possono essere considerati eh uomini liberi quindi eh già abbiamo già capito che tipo di persone vanno a mh a reclutare ma l'altro ultimamente era uscito un un grosso scandalo su un tipo che si chiama Evgeni Nugin perché è uscito questo scandalo perché era era uno di quei carcerati che teoricamente doveva fare servizio con la Wagner e poi ehm si era ritirato era o era scappato e eh è finita a martellate e il capo della Wagner Evgeni Prigojin ha commentato il video io non faccio vedere il video ovviamente perché stanno prendendo a martellate un uomo ehm praticamente eh lui dice il cane eh si meritava di essere ha subito una morte da cane praticamente quindi hanno ucciso uno che era uno di quei prigionieri che avevano accettato di prestare servizio e poi era ehm era scappato e eh sono contenti di far vedere insomma che lo hanno fatto fuori a martellate ehm forse anche per mandare un messaggio che se scappi dalla Wagner è così che finirai eh quindi se volete insomma vedervi il video cercatelo voi io se volete vi metto il nome in ehm in chat comunque sotto ci sono le fonti io il video ovviamente non lo mostro perché è estremamente macabro e quindi eh sì qualcuno qui sta dicendo in chat che la Wagner è un po' come la Dirlewanger sì sta diventando insomma qualcosa di molto ehm molto similare ecco eh quindi è molto interessante vedere come ci si muove insomma in questo ambientino ecco non troppo non troppo felice mh a riguardo di questi gruppi qui sia da una parte che eh dall'altra poi eh si vedrà poi magari più la farò proprio un pezzo solo sull'Azov per raccontare tutta la storia ehm questo anche perché ho visto fare mistificazione anche online a me dispiace per quelli che sono eh completamente filo ucraini a priori o filo russi a priori e mistificano la la verità dei fatti tipo quando si nega che la simbologia dell'Azov ehm non sia di ispiramento di ispirazione nazista eh è completamente falso eh la la runa che utilizzano quelli dell'Azov è la runa della seconda divisione SS Das Reich semplicemente girata orizzontalmente né più né meno e non è ehm nuova idea come viene spacciata quella è una presa per il culo soltanto scusate un idiota potrebbe cadere su certe cose anche perché poi lo farò vedere quando farò un video proprio sull'Azov ci sono un sacco di eh elementi dell'Azov che andavano a festeggiare eh non solo bandera ma andavano a festeggiare vestiti in uniformi tedesche ok quindi non prendiamoci in giro perché dico queste cose perché io capisco ehm chi supporta l'Ucraina capisco chi supporta capisco poco eh chi supporta i russi ma quando tu vai a mistificare delle cose fai anche dei danni perché quando dice che quelli dell'Azov non sono non hanno quel genere di ispirazioni lì beh stai anche prendendo un po' in giro le persone ehm perché in realtà è così e ci sono non solo testimonianze fattuali di questo la simbologia è palese ma ci sono anche delle ehm delle interviste abbastanza interessanti al ai canadesi i canadesi infatti questo è un giornale di Ottawa canadese dove eh si lamentavano perché dicevano sì noi stiamo addestrando questi qui ma eh gli ufficiali canadesi si lamentavano che quelli dell'Azov praticamente cantavano canzoni eh naziste tipo a Erika ehm o ispirate a Bandera e si sono lamentati con con l'esercito perché non puoi in Canada ehm fare questo genere di di cose questo è il è uno degli articoli Canadian officials who met with Ukrainian unit linked to a neo nazis feared exposure by news media documents sono tutta una serie di articoli notare che questo è un elmetto dell'Azov mentre sono in addestramento in Canada e gli ufficiali canadesi si lamentano perché dicono guardate che al governo noi li stiamo addestrando ma se viene fuori che questi mentre noi li addestriamo marciano cantando queste canzoni scoppia un casino della madonna il governo canadese bene o male ha tentato di zittire insomma questa cosa qui ma è è saltata fuori questi sono giornali canadesi quindi uno neanche può dire sono filorussi che raccontano propaganda questi sono giornali e militari canadesi che si lamentano ehm della cosa quindi più chiaro di così quando hai talmente tanti elementi dire il contrario che non sono di ispirazione stai facendo mistificazione e propaganda perché la propaganda si fa da entrambi i fatti io purtroppo c'ho questo vizio dell'onestà intellettuale e quindi quando vedo queste cose purtroppo le faccio vedere per tutti i fatti so che è qualcuno da noia perché c'è chi è completamente pro una parte pro l'altra ma io per equità non le devo dire perché poi se parli solo dei nazisti di una parte giustamente ci sarà qualcuno che dice allora quelli altri ecco invece qui ci sono tutti gli articoli poi ve li andate a spulciare per conto vostro se vi interessa eh questi sono lamentele canadesi eh parlato in tempi non sospetti 8 novembre 2021 quindi pre guerra tanto per capirci torniamo a ehm al contraltare della 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 Wagner qual è il contraltare della della Wagner che sta facendo il verso alla Wagner è la Mozart ehm quindi anche se qualcuno avevo notato non aveva capito forse non la conosceva e quindi quando ho fatto il titolo della live qualcuno mi ha detto ah interessante ehm il titolo chissà che concerto no in realtà ehm fanno il verso a quelli della Wagner li prendono li prendono in giro eh chi ha fondato la Mozart la Mozart è stata fondata da Andy Milburn chi è Andy Milburn vi chiederete Andy Milburn è un ex militare eh americano la Mozart non fa servizio attivo come fa la Wagner non è che sono realmente combattenti ok in realtà la Mozart fa un servizio di supporto e di addestramento ehm agli ucraini quindi eh addestrano truppe ucraine vicino al fronte forse fanno anche insomma eh insegnano anche ehm comunicazioni tecniche di ricognizione un po' di tutto a rotazione prendono le truppe eh ucraine e e le addestrano proprio dietro al fronte quindi il nome a un certo punto hanno detto è palesemente l'abbiamo preso per prendere per in in giro eh quelli della Wagner ehm ma è palese insomma la loro attività non è un convolgimento diretto perché è difficile per dei militari ehm americani anche se questi se non sbaglio sono congedati cioè comunque sono usciti dall'esercito per andare a fare questa cosa ehm volontaria eh sono militari visto che ancora qualcuno chiede si è perso sono volontari americani canadesi e inglesi quelli del gruppo della Mozart e quindi è interessante vedere eh la loro attività perché eh dà una mano insomma agli ucraini eh qui qualcuno dice sono i buoni buono lo so non sta a me fare mh giudizi di tipo morale racconto solo ehm solo i fatti ecco questo è il il comandante della Mozart che addestra gli gli ucraini ovviamente non hanno nessun servizio attivo eh diretto sul fronte fanno diciamo servizio di addestramento logistico ehm e cose del genere eh è palese che il nome Mozart è per prendere in giro insomma quelli quelli della Wagner quello eh abbastanza ovvio hanno detto che all'inizio la cosa era nata un po' come presa in giro non volevano chiamarsi così poi insomma è piaciuto e quindi sono rimasti insomma su questo su questo nome abbastanza particolare io mi aspetto che qualcun altro sbuccherà con che non so Chopin o cose del genere perché potrebbe potrebbe capitare tanto ormai eh la tendenza è quella no quindi è abbastanza abbastanza ridicolo finirà tutto in un grosso concerto eh ovviamente quelli eh della Mozart dicono delivering critical capabilities to Ukrainian frontline units e semplicemente fanno addestramento eh fa l'altro se volete comprare una patch la loro patch se non sbaglio è in vendita cioè mi pare costa undici dollari hanno fatto una specie di campagna appunto perché parlo della campagna crowdfunding perché anche loro hanno fatto una una campagna proprio dove vendono eh alcune cose alcuni merchandise eccetera questa è la loro patch fa l'altro notare che c'è un drone credo sia un drone no? sì se non è un drone non so cosa sia credo sia un drone abbastanza particolare insomma come eh come patch ecco guarda io mi stop un attimo così se avete domani perché di cose ce ne sono veramente tante tante perché poi di unità ce ne sono veramente 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 tante e quindi se volete approfondire eh ci sono delle storie abbastanza parallele non so quanti hanno sentito di Jan Petrovski eh anche questa è una cosa collegata più o meno alla alla Wagner e mh e ai mercenari di Jan Petrovski è un eh beh ve lo faccio vedere è un nazionalista accusato di crimini in Ucraina eh norvegese di origine norvegese fra l'altro ai miei tempi nei tempi ehm parlo del 2015 io contattai ehm si chiamava Skilt era un cecchino ehm non mi ricordo se norvegese o svedese mi pare svedese che addestrava gli ucraini nel Donbass e all'epoca rispondeva su Facebook e quindi ci eh ci parlai che aveva una taglia sulla testa data messa dai separatisti russi eh poi è sparito e a quanto pare ha avuto problemi in patria proprio perché insomma faceva il mercenario e cosa ed è già questa è una storia abbastanza simile ehm praticamente nel 2016 il governo norvegese ha rimosso la cittadinanza a Jan Petrovski eh che era in residente in Norvegia fin dal 2004 perché è un radicale nazionalista sospettato di essere eh di essere collegato col gruppo neonazi di Vyacheslav Datsik eh che era il vice comandante del Rusic. Il Rusic era un'altra unità che combatteva ehm contro le truppe ucraine nei territori del Lugansk e del Donetsk fra il 2014 e il 2015 ehm sono sbagliati e ricercato anche dal dal FBI questo eh questo tizio qui eh fra l'altro il giornalista che ha raccontato questa storia qui è un giornalista italiano Giovanni Pinni che ehm si è incontrato con ehm con Petrovski a San Pietro Burgo e ha raccontato insomma la storia di questo eh di questo personaggio eh tutte le storie che che vedremo insomma di tutte queste unità di una parte e dall'altra sono assai strane tra strani benefattori oligarchi o tizi che sbucano da paesi del nord che combattono per una parte e dall'altra nazionalisti eh gente che si ispira a fascismi nazismi e cose del genere quindi è un ambiente molto strano poco capito in questa guerra che invece è fondamentale non non tanto nella guerra in sé ma nel periodo di mezzo fra queste due guerre perché una buona parte delle unità coinvolte in questa guerra vengono da questo mondo qui da un mondo paramilitare da un mondo eh di nazionalisti di gente che si considera patriota però che si ispira a cose che sono ehm assurde assurde anche dal punto di vista ehm della stessa diciamo della stessa storia perché un ucraino come fa a essere fascista o nazista quando i nazisti consideravano gli ucraini dei subumani? La stessa cosa vale per i russi come fa a essere un russo filofascista o nazista quando per i nazisti i russi erano dei subumani cioè questa è una cosa assurda che ognuno abbia i i suoi insomma eh non so come riescono a sposare certe certe ideologie ecco perché scrivete trattore? Trattore boh non vi sto seguendo vediamo un po' Optimus Prime Trattore ok interessante vediamo anche questa cosa qui comunque se volete approfondire di più su eh Dimitri Utkin vi ho messo anche su di lui vari link su Jan Petrovski su su Prigojin insomma ci sono anche tutte le storie delle battaglie della Wagner in in Siria dove hanno sia fatto bene sia ehm hanno preso un un sacco di botte quindi io qui mi stoppo se avete un po' di domande perché poi io passo a parlare delle varie unità eh volontarie e sono tantissime tra Bielorusse, Cecene eccetera ah un trattore ah ok il simbolo della mozza è il trattore ok perfetto grazie infatti non non collegavo è un trattore va bene un'altra pesa per il culo ok fantastico ok ce l'ho ce l'ho basta tranquilli tranquilli è un trattore ok vediamo se avete un po' ehm come fanno a reclutare e beh questo è è interessante nel senso che la Wagner è cominciata come un gruppo per fare la guerra in Siria e quindi probabilmente sono ex militari che non contenti insomma di quanto venivano ehm pagati nel mondo militare hanno cercato di fare soldati di ventura ehm gli altri sono diversi nel senso ci sono i i bielorussi che lo fanno su base volontaria eh perché evidentemente sperano insomma nella caduta anche di Lukashenko eh altri perché odia o vogliono trovare l'occasione per andare a combattere contro quelli che odiano per esempio ci sono i ceceni anti Kadirov perché Kadirov è considerato un traditore ricordiamoci che nella guerra in Cecenia la fazione che gestiva il padre di Kadirov tradirà il resto dei ceceni per allearsi con i russi quindi c'è una parte di Cecenia insomma che questa cosa non se la scorda ecco quindi eh è abbastanza interessante vedere che la maggior parte delle motivazioni sono motivazioni di vendetta o di odio diretto rispetto a a quello che rappresenta l'altro qui per i ceceni che combattono contro i russi e lo fanno perché vorranno combattere gli altri ceceni quelli di Kadirov quindi per faide loro interne dovute a alle situazioni della guerra in Cecenia ehm no non c'è non c'è nessun collegamento tra la Wagner ehm la strage di Buccia perché non erano proprio in quella zona non hanno nulla a che vedere con eh con quella loro sono accusati di altri crimini eh alcuni di loro sono indagati sparizioni stupri altre cose sia in Siria che in paesi mh africani che periodo fra 2015 e 2019 eh nel Donbass anche perché alcuni di loro facevano da addestratori delle truppe separatiste del Donetsk e del Lugansk allora no che io sappia non c'è l'ISIS ci sono alcune pochi eh pochi elementi di milizie a cui i russi hanno offerto di venire a combattere fra l'altro ultimamente l'avevano offerto anche ai mh agli afghani di venire a combattere lì eh però so che l'avevano offerto anche a varie fazioni sì siriane Zbollah ehm al Qtar e altri gruppi insomma abbastanza strani eh che girano in in Siria perché ovviamente in quei paesi insomma fa gola guadagnare qualche migliaio di dollari ehm al mese se vi ricordate un po' di mesi fa si vociferava dei diecimila o ventimila siriani che dovevano andare a combattere poi non non è venuto praticamente nessuno non sono riusciti neanche a a formare un plotone di siriani quindi alla fine è arrivato veramente poco i russi tentano di rastrellare un po' ovunque eh visto che parlate di ISIS ci sono anche degli elementi musulmani in questa guerra sia eh per quanto riguarda i i ceceni da una parte e dall'altra sia per quanto riguarda un certo battaglione mh proprio musulmano se ricordo bene che è un battaglione composto da da varia gente sono sbagliato il battaglione Crimea il battaglione Crimea è un battaglione ehm di musulmani e veterani siriani anti Assad e anti Russia che combatte dal lato degli degli ucraini si sa pochissimo di loro perché mh a parte credo il logo e pochissimi articoli sono sbaglio di Reuters eh non non c'è altro eh questo è il battaglione Crimea sono musulmani e ce l'hanno sono veterani della guerra come si diceva prima in Siria eh anti Bashar al Assad e anti eh anti Russia eh questo credo sia l'unica unità non cecena di musulmani in in questo conflitto eh anche questi sono abbastanza insomma particolari ora vediamo se riesco a trovare ah eccolo qui il simbolo eh fra l'altro il simbolo è abbastanza palese ci hanno insomma le le scimitarre quindi è abbastanza ovvia la la provenienza questo è il simbolo è l'unico che sono riuscito a trovare online questo è il simbolo del battaglione Crimea di ex siriani quindi anche questa è un'unità abbastanza particolare ehm le repubbliche separatiste avevano l'unità Cossacks cioè proprio unità Cossacki no non sono curdi sono siriani siriani anti Bashar al Assad e anti russi ehm quelli che hanno fatto la guerra contro Bashar e l'hanno persa quando sono poi arrivati i russi allora quali sono questo è interessante come domanda ehm quali sono i rapporti tra Wagner e Kadirowski eh credo a parte il discorso eh sì quello è il simbolo del canato di Crimea a parte il discorso di essere d'accordo sul ehm parlare contro l'esercito regolare non hanno praticamente mai collaborato direttamente le unità cecene hanno servito in altre parti del fronte eh rispetto a quelle della Wagner quindi non c'è una collaborazione diretta c'è una linea di pensiero comune cioè che quando c'è da dare contro all'esercito sono tutti d'accordo sia Kadirov che anche Prigojin però non hanno che io sappia non hanno collaborato direttamente sul campo fra ehm fra Wagner e Kadirowski ecco chi li arma questi gruppi questa è un'altra eh cosa interessante per quanto riguarda la Wagner e Kadirov i russi lo stesso dei casi delle repubbliche ehm i gruppi delle repubbliche separatiste per quanto riguarda quegli ucraini tanti di questi battaglioni sono stati creati in epoca di di guerra civile diciamo in Donbass e spesso hanno dietro di loro eh dei benefattori dei benefattori ehm oligarchi quindi truppe alcuni di questi erano stati finanziati dall'ex banchiere che poi è stato cacciato da da Zelensky quindi sono tutte cose che andranno investigate perché c'è tutto un mondo rispetto a chi fornisce insomma chi crea chi finanzia questi 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 gruppi c'era anche il braccio armato di Pravi Sector in in quel periodo poi si sono trasformati in in vari si chiama UDAR ora quindi c'è un c'è un sacco di pasticci di Sì bravo Kolomoisky lui aveva finanziato parte di questi di questi che sembrano quasi eserciti privati onestamente eh che poi sono stati regolarizzati e integrati nell'esercito eh ucraino ehm e lo stesso vale per i separatisti anche di là c'erano delle unità abbastanza dubbie come quella della Cossacks che poi è stata eh integrata nell'esercito non ricordo se del Lugansk o del Donetsk eh comunque sono unità che erano nate come unità paramilitari eh un'altra unità molto interessante è quella di volontari inglesi americani e canadesi che sarebbe questa si chiama Vov Kodav questa è completamente fatta da eh inglesi americani e canadesi e se ricordo bene avevano combattuto sul fronte di di Izium Kupians che queste zone qui eh quindi a volte senti i russi che dicono ah c'era la Nato a combattere contro di noi perché stanno parlando in inglese ma in realtà è perché ci sono un po' di queste unità abbastanza mh abbastanza strane insomma quindi è interessante vedere queste cose qui ehm infatti vi faccio vedere un'altra cosa sempre su questa unità ehm inglese, canadese e americana vediamo se trovo la scheda vediamo se riesce a caricarla eccoci eccoci qui eh ad Avdivka se vi ricordate c'era la famosa i famosi combattimenti per la fabbrica eh chimica eh c'era questa unità eh di canadesi e mh eh inglesi qui mi sa che parlano e basta non fanno vedere nulla del dell'unità di per sé quindi ci interessa relativamente poco eh comunque io vi metto tutti i link perché poi se volete andare a vedere esattamente dove operano eh queste unità eh come sono composte eh è abbastanza interessante perché è un vivaio insomma di eh di unità molto strane mh ora vi faccio vedere il reggimento Pahonia che è il reggimento di Bielorussia quanto pare hanno subito grosse perdite questo reggimento qui e ora pare che non esista più questo reggimento eh erano tre ne sono rimasti due eh questo qui eh aveva combattuto ehm nei primi cinque mesi di guerra e poi pare che abbiano subito delle perdite piuttosto ehm rilevanti e quindi o si sono uniti alle altre unità Bielorussie o hanno cessato proprio di esistere ho letto anche in giro che eh pare che avessero disertato cioè hanno disbandato e sono tornati a casa ecco questa è la parte più difficile cioè riuscire a quantificare quante sono queste unità di volontari rispetto volontari Azov mercenari quindi Wagner addestratori rispetto insomma al al conflitto allora se facciamo due conti quelli della Wagner erano più o meno novemila e poi non si sa quanti sono riusciti a tirarne fuori dalle prigioni ehm con la loro proposta e con i vari reclutamento e reclutamenti in giro ci sono tre battaglioni eh bielorussi quindi alcuni sono addirittura reggimenti quindi facciamo dai cinquecento agli ottocento uomini due internazionali americani canadesi inglesi eccetera quindi sono altri mille cinque duemila poi ci sono quelli due ceceni un altro migliaio quindi se uno poi va a vedere c'è quello Cossacks c'è il distaccamento Kamzat Gelayev che sono ceceni di Chkeria una zona particolare il battaglione musulmano ehm due di ceceni anti Kadyrov ah c'è la legione eh freedom russia freedom of russia legion che è una legione di russi anti Putin quindi se uno deve alla fine tirare fuori i numeri ci sono anche un po' di volontari polacchi lituani estoni eh slovacchi inquadrati in varie unità internazionali quindi bravo c'è la legione georgiana quindi se dovessi tirare fuori un numero io credo che sono fra i trenta e i quarantamila quelli che combattono ehm inquadrati fra gruppi volontari gruppi mercenari e cose del genere eh questa è la freedom eh of russia legion questo è il loro logo vediamo se l'ho aperto giustamente sì questo è il loro logo anche loro sono un altro gruppo quindi alla fine sono tanti uomini sono veramente tanti uomini perché trenta quarantamila uomini in un conflitto che ne ha duecentomila da una parte trecentocinquantamila dall'altra si parla comunque di una buona percentuale di ci sono sì c'era anche quello sudamericano eh sudamericani argentini boliviani c'era un po' di tutto ehm che era abbastanza grosso erano mille mille duecento quindi alcuni sono battaglioni alcuni sono reggimenti ehm è tutto un mondo sì sembra il logo della Riot Games tra l'altro quello assolutamente sì eh sono tutti ultranazionalisti questo è difficile a dirsi nel senso che i ceceni che combattono contro i Kadirov non so se sono nazionalisti o se ce l'hanno a morte con eh con Kadirov punto e quindi ogni occasione di poter menare ehm l'altra parte è buona da quello che ho visto io generalmente sì sono molti militaristi molti nazionalisti ehm però c'è anche gente che è andata a combattere per l'Ucraina semplicemente perché credono nella difesa ehm dell'Ucraina ci sono molti volontari come dicevo dei paesi baltici eh i volontari americani io lo dico onestamente a me mi puzzano di una missione semi ufficiale non ufficiale ecco se proprio la devo dire tutta nel senso che sono talmente organizzati talmente lì per addestrare che mi sembra palesemente che siano non siano poi così volontari nel senso che hanno troppi fondi per essere lì così palesemente è un qualcosa di organizzato poi che sia ufficiale semi ufficiale sia un modo di dare supporto considerata l'expertise che c'è dietro molti di questi sono ehm ex marines ex truppe speciali ehm alcuni erano alcuni erano delta force beh mi sembra un po' strano che insomma il governo americano permette a questo genere di esperti per quanto magari ritirati o non più eh attivi insomma di formare un gruppo così palesemente composto da americani inglesi e canadesi e a fare addestramento in zona di guerra secondo me sono delle missioni semi ufficiali ecco o tollerate quanto meno eh questi sono quelli sono della eh volontari russi questi sono russi che combattono russi russi anti Putin quindi anche questi sono abbastanza particolari questi sono della Freedom of Russia Legion eh ora vi faccio vedere i ceceni anti Kadirov che anche questi insomma sono sono un posto particolari eh è un mondo è un mondo strano un mondo poco raccontato come è poco raccontato il il discorso del crowdfunding che secondo me meriterebbe una puntata a parte cioè raccontare tutto il il mondo eh dove vengono raccolti dei soldi per equipaggiare sia i russi sia gli ucraini cioè un crowdfunding per esempio che eh raccogli soldi per comprare droni Bayraktar per l'Ucraina che è una cosa abbastanza particolare ecco questo è il Joker Dudayev eh Battalion eh che sono volontari ceceni eh della Repubblica di Ichkeria che sarebbe la Repubblica insomma che si era separata nel 91 poi insomma c'è delle vicende abbastanza strane ora se non sbaglio non esiste neanche neanche più se non come zona tipo oblast eh governativa insomma questi sono i ceceni anti Kadirov quindi anche loro insomma sono degli elementi abbastanza eh particolare l'altro invece si chiama Sheikh Mansur Battalion che è questo qui e ci hanno questa simbologia qui come si può vedere e anche questi sono anti Kadirovski questi secondo me sono più motivati da da un discorso di odio personale rispetto a Kadirov insomma è la parabola politica del del padre più che altro che non ideologie o cose o cose strane eh bravo Michael Skilt ecco mi ha ricordato il il nome del cecchino eh era Michael Skilt ci parlai su su Facebook perché mi interessava insomma capire quello che succedeva nel Donbass poi mi ero reso conto che era un fanatico ehm nazionalista insomma tipo molto strano ecco quindi è abbastanza particolare sì ma cecchenskaya battaglio vuol dire semplicemente battaglione ceceno poi il battaglione di per sé è dedicato a Joker Dudayev che è un personaggio ehm ceceno come l'altro è dedicato a Sheikh Mansur quindi sono cose ci sono tutti i link comunque in 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 fonte eh l'altro che vi ho parlato ovviamente è quello del quello della Crimea cioè quello dei musulmani eh siriani poi ce n'è uno stranissimo di cui non sono riuscito a trovare quasi niente che si è non è nemmeno un battaglione è un distaccamento si chiama Kamzat Gelaev e anche questo è un distaccamento di ceceni di cui non non si sa praticamente nulla non so quanti sono non sono riuscito a trovare eh quasi niente su su di loro l'unica cosa che so è che questo eh Gelaev era un ehm un comandante ceceno che combatteva contro l'imperialismo russo quindi forse sono i rimasugli delle degli uomini che combattevano sotto questo comandante e che ora hanno formato insomma questo questo gruppo qui quindi Kamzat Ruslan Gelaev questo è il nome del comandante che combatteva contro contro i russi non è che questa è un'unità poco poco conosciuta c'è qualcuno occidentale c'è anche qualche italiano c'è anche qualche italiano come sappiamo da una parte e dall'altra ma sono veramente pochi non è una cosa molto molto conosciuta ecco sono pochissimi si si pa se ne parla tanto in Italia viene sempre fuori le storie di questo tipo non mi ricordo se era di forza nuova o di casa pound ma è veramente poca cosa ecco sono pochi elementi insomma un po un po particolari c'è anche il battaglione o mai che si chiama questo normandia che anche questi sono canadesi dall'altro ora ve lo metto eccolo qui se riesco a togliere la di blocker se no me lo eccolo qui questo è il norman brigade e sono canadesi quantomeno i leader sono canadesi poi non so se all'interno c'è un po di tutto parlano inglese ma sono canadesi quindi questi anche questi sono abbastanza particolari quindi ci sono almeno tre unità con anglosassoni quindi c'è la mozart che fa addestramento c'è la norman brigade e poi c'è la brigata internazionale con canadesi inglesi eccetera queste due sono combattenti la mozart fa solo addestramento almeno da quello da quello che sappiamo quindi c'è c'è tutto un sottobosco di attività abbastanza particolare e interessante che secondo me vale la pena di andare a investigare di andare a vedere insomma chi sono cosa fanno chi li finanzia e cose del genere trovate poco c'è bisogna andare a scavare soprattutto su siti russi ve lo dico buona parte dei siti che ho linkato sono russi o sono bielorussi o sono dei paesi baltici c'è qualcosa finlandese anche perché in occidente insomma si tende a parlare molto poco insomma di tutte queste unità e delle loro attività della loro provenienza da chi vengono equipaggiate insomma non c'è una gran volontà di andare a vedere chi sono e cosa fanno quindi vi consiglio di andare a spulciarvi tutti i link che ho messo sotto secondo me è una cosa che merita attenzione perché in questa guerra vedere tutto questo tutte queste unità che si muovono e sono veramente tante non è una percentuale così rilevante se uno fa due conti sono 10 15 per cento del totale dei combattenti comunque sono tanti nelle altre guerre che abbiamo visto almeno durante la mia vita quindi quelle in Iraq quelle in Afghanistan ecco non si sono viste così tante unità che vengono da vari paesi così diversi credo se dovessi trovare un parallelismo a parte ovviamente la seconda guerra mondiale ma erano più delle unità forzate la guerra di Spagna nella guerra di Spagna c'erano tantissimi battaglioni creati insomma un po da chiunque c'era quello italiano c'erano quelli americani c'erano quelli inglesi c'era c'era quello polacco c'era veramente di tutto che combatteva c'era quello sudamericano che combatteva insomma da una parte o dall'altra lì più per ragioni ideologiche qui mi sembra che sono più spinti i singoli gruppi da questioni di faide interne cioè andare a sparare quelli con cui tu hai dei problemi si bravo le brigate internazionali e quindi questa è un'occasione per dire se sei un ceceno a cui sta sulle balle Kadirov beh questa guerra è un'opportunità per andare a sparare ai Kadirovski ecco mi sembra più cose legate così insomma vediamo un po' trovarvi tutti come organizzano tutti questi battaglioni fanno ognuno da solo seguono ordini dell'esercito no io sono coordinati dall'esercito ucraino sono inquadrati comunque dell'esercito ucraino e fanno quello che le dice l'esercito ucraino non so se l'esercito ucraino lì dà anche equipaggiamento eccetera o se sono arrivati direttamente loro io da quello che vidi all'inizio della guerra mi sembravano equipaggiati anche meglio degli ucraini cioè già venivano con i loro Kevlar con il loro equipaggiamento eccetera e poi come ho detto molti di questi fanno anche crowdfunding online cioè si fanno mandare fondi creano campagne ad esempio la Mozart vende queste patch con col trattore vende le magliette e altre cose altri invece sono sponsorizzati da oligarchi da unità abbastanza da personaggi abbastanza strani da una parte dall'altra e palestimente che hanno dei fondi occulti o dei benefattori ecco allora da quello che so io le unità ecco questo è un fattore interessante mentre le unità della Wagner sono pagate e anche bene i cecenni non lo so ma credo di sì credo che Kadirov insomma li paghi piuttosto bene le unità quelle volontari di canadesi eccetera ufficialmente non non credo che abbiano più che una paghetta per comprarsi le sigarette cose del genere cioè non hanno delle paghi da mercenari sono volontari quindi non so io mi ricordo quando parlai con Michael Skilt mi disse che riceveva 300 dollari al mese una cosa del genere c'è veramente poco per andare a rischiare la vita cioè era palese che era lì non per fare soldi ma per questioni ideologiche o tarli che aveva nel cervello non era certamente lì per per fare i soldi ecco quindi c'è anche una disparità di trattamento cioè molti di loro sudamericani questa gente qui che va a combattere non lo fa certo per soldi lo fanno perché credono in questa guerra quanti sono gli italiani che combattono in questa guerra da quello che so io meno di 10 meno di 10 e quelli più conosciuti sono tre o quattro dunque molto molto pochi e se ricordo bene erano quasi tutti del nord Italia ho 40 anni sono nato il 21 08 82 lo so si vede è a barbetta bianca che ci posso fare quindi è una situazione interessante che merita approfondimento perché comunque sono una parte rilevante di questi combattimenti e lo sono stati soprattutto nella fase di Severodonets molto poco in quella di Kherson una particolarità ho notato che quasi tutte le unità che combattono per l'esercito ucraino combattono più o meno nella zona di Kharkiv Donbass Kharkiv pochissimi di loro combattevano nella zona di Kherson e se non sbaglio i rimasulli della Azov combattono dalle parti di Zaporizia quei reggimenti che sono stati rifatti con qualche veterano dell'unità originale ecco quindi più o meno la situazione è questa per quanto riguarda queste unità non so perché quasi non ci sono quasi mai nella zona di Kherson ma più che altro nelle altre zone dovrò chiedere ai contatti ucraini se c'è un discorso di mettere tutte le unità che parlano lingua straniera più o meno sotto un comando unico direzionato dagli ucraini e quindi le vogliono tenere tutte lì e quindi per difficoltà di lingua non le vogliono spargere in giro per il fronte avrebbe senso o se c'è qualche altra insomma motivazione più più particolare ecco l'amico opera solo all'estero fa anche operazioni sporche in territorio russo da quello che so io opera solo all'estero a cominciare dal Donbass Siria e tanti paesi del nord Africa forse anche qualcosina in Libia se non come unità vere e proprie quantomeno come consulenti vengono mandati un paio per fare addestramento e queste cose qui quindi sono abbastanza vuoi il sito del battaglione Mozart ok allora te lo mando comunque sarà tutto in descrizione quindi ma dovrebbe essere facile da trovare specchi te lo trovo Wagner Frigozzi gruppo Mozart allora the mozartgroup.com è il sito della Mozart ve lo butto in chat così ce l'avete eccolo qui comunque tutto in descrizione ve lo dico ho fatto una ricerca piuttosto grande i link sono veramente tanti sono 9.000 caratteri di link quindi se volete andare sono divisi per sezioni quindi troverete la sezione Wagner la sezione Prigozzi in Dmitry Utkin Jan Petrovski Wagner in Siria la linea difensiva della Wagner anche quella è una cosa abbastanza particolare il caso di Evgeni Nuzin cioè quello che è stato ucciso a martellate la Mozart battaglione terror bielorusso il reggimento Kastush Kalinushki bielorusso il corpo volontari russo quindi Freedom of Russia la la brigata la Norman Brigade quelli canadesi inglesi americani il Joker Dudaev battalion quindi Cecenia Antikadirov il Sheikh Mansur battalion Cecenia Antikadirov battalioni Crimea il Vov Kodav il reggimento Pahonia il distaccamento Kamzat Gelaiev e tutti i link sull'Azov insomma dove racconta un po' la storia insomma dell'Azov ma anche insomma le parti un po' più occulte quelle che tendono a essere nascoste perché danno fastidio rispetto al al supporto occidentale ecco sì c'è anche il battaglione di brasiliani e argentini che erano quelli che hanno combattuto a Severodonetsk allora ultimamente alla Wagner visto che chiedete quali mezzi alla Wagner quale specialità combattimento urbano quindi contro insorgenti e cose del genere visto che hanno combattuto ad Aleppo e altri posti e come mezzi ultimamente li hanno dato anche degli aerei hanno carri armati hanno un po' di tutto tutto dato dal tutto dato dai russi cioè non sono più solo un gruppo di fanteria leggera con qualche blindato in realtà cominciano ad avere anche un'aviazione privata elicotteri perché ormai l'altarino è stato svelato che sono palesemente finanziati dal dallo stato russo e quindi gli hanno dato insomma tutto l'equipaggiamento anche pesante quanto viene pagato un mercenario serio guarda alcuni di loro guadagnano anche migliaia di dollari al mese poi per carità ci sono quelli sai se hai una grande esperienza così puoi arrivare anche a 10 12 mila dollari al mese quelli della Wagner molto meno quelli della Wagner da quello che so io gli stipendi vanno dai 2000 ai 3000 a volte anche meno sicuramente i tizi che hanno preso dalle prigioni e che hanno fatto ruolare beh sicuramente non li danno quel genere di cifra lì li daranno molto meno anzi forse combattono quasi gratis perché è una specie di vieni fai sei mesi e poi insomma riesci a a tornartene a casa se ci riesci perché il tasso sono sbagli il tasso di mortalità è intorno al 30 per cento cioè uno su tre che serve sei mesi nella Wagner muore quindi insomma se uno c'ha 10 20 anni di galera vuoi prenderti il rischio fallo io concluderei con un paio di notizie riguardo al fronte perché è abbastanza interessante una delle ultime cose che stanno avvenendo sì ci sono le voci di uno sbarco ucraino su questa penisola sono girati i video non si sa alcuni telegram russi dicono che gli ucraini sono lì altri dicono che ci hanno provato e hanno fallito ancora notizie certe non ci sono quello che è abbastanza particolare particolare di quello che sta succedendo è che praticamente gli ucraini stanno martellando talmente forte le linee russe che i russi hanno deciso di abbandonare le linee che si trovavano proprio dietro kerson se vi ricordate quelle tre linee che avevano creato dietro al fronte perché lo sbarramento ucraino è troppo pesante e si stanno schierando più indietro 20 30 chilometri più indietro quindi significa che non sono neanche in grado di tenere la linea del fronte nonostante le dniepra che abbastanza insomma significativo evidentemente gli ucraini rendendosi conto che l'esercito russo è estremamente demoralizzato nonostante le difficoltà quindi stagione fredda eccetera evidentemente sono intenzionati a continuare e addirittura a provare magari a ad andare avanti nonostante insomma questa l'inverno insomma che sta arrivando non è un caso che i russi hanno cominciato ad apprestare delle linee difensive praticamente su questa penisola qui quindi proprio sull'istimo che collega la crimea anche perché qui insomma avanzare qui non sarà facile nel senso c'è poco da di dove devi difendere ma il fatto che i russi ha neanche una settimana dall'evacuazione devono a loro volta evacuare le linee difensive dietro kerson beh è abbastanza significativo del fatto che non riescono neanche a fare tiro di controbatteria questo sarebbe un uno smacco incredibile già lo è stato kerson figuriamoci se non riescono a neanche a tenere l'altra riva del dnieper secondo me il morale sta andando giù talmente velocemente che gli ucraini si rendono conto che al netto delle difficoltà conviene andare avanti perché comunque si può effettuare un avanzamento e quindi si batte il ferro finché è caldo diciamo gli ucraini secondo me non vogliono perdere il il momentum c'è qualcuno qui dice qui ma dai è una trappola può essere può essere tutto in guerra possono essere tante cose ma onestamente vista la ritirata con fuga male organizzata perché dovresti fare delle linee finte se poi le abbandoni direttamente cioè si parla di una doppia ritirata cioè kerson linea difensiva linea difensiva ulteriore linea difensiva per carità può anche essere che i russi fanno un una trappola ma oltre onestamente vedendo il morale la situazione non so se siano in grado di fare una cosa sicuramente gli ucraini rischiano perché attraversare il dnieper e tentare di andare avanti incalzando i russi si espongono un eventuale contro no no potrebbero anche poi no ma hai detto giustamente è una mossa rischiosa per gli ucraini attraversare di getto dopo aver fatto mesi di controoffensive e incalzare ancora i russi perché potrebbero finire in in una trappola ci può stare è una possibilità evidentemente ritengono che il gioco vale la candela quindi la situazione è un po questa qui nulla era semplicemente una live abbastanza particolare insomma su queste truppe qui più che raccontarvele io vi ho dato degli spunti cioè non è che voglio stare qui a parlare tre ore di tutte le azioni della wagner o di altri in siria cose del genere vi ho dato una specie di bugiardino no un incipit su queste unità che magari qualcuno non conosceva e quindi se volete approfondire ci sono ci sono tutti i link sotto se vi interessa una particolare unità o volete andarvi a leggere un po di storie sull'attività insomma della wagner in siria o o della azofo o di altre spero di avervi fornito insomma un bel po di un bel po di materiale anche perché poi diventa un elenco di unità non è che c'è molto da dire a parte l'appartenenza e cosa fanno anche perché molti hanno una storia molto breve cioè sono nate in questi in questi mesi quelli che hanno più storia sono la azof e la wagner io vi consiglio soprattutto il link sulla wagner perché ci sono le storie delle loro battaglie in siria e in africa che secondo me sono poco raccontate che in realtà sono molto interessanti perché ho voluto fare questa live perché comunque tra poco avremo cristadoro che ha scritto dei libri a riguardo e quindi approfondiremo con lui proprio queste cose qui per quanto riguarda gli ospiti visto che chiedete gli ospiti domani viene gastone breccia e il 22 viene il professor parsi poi più la insomma ci saranno altri ospiti tornerà il colonnello stirpe verso fine mese e tanti altri che ancora non non vi dico ma che saranno insomma delle belle sorprese quindi grazie a tutti e a domani perché domani sera alle 21 viene gastone breccia alla prossima